Più di una volta mi è capitato che qualche cliente mi chiedesse come fare a nascondere dei dati personali, ad esempio un file che contiene le password, oppure dei dati bancari e così via, tenendoli però comodamente raggiungibili sul suo desktop. Bene, normalmente io gli insegno un trucco che è davvero molto semplice da mettere in pratica, non particolarmente elaborato, che però consente con una ragionevole sicurezza di nascondere un'intera cartella e tutto il suo contenuto pur lasciandola semplicemente accessibile direttamente dal desktop. Andiamo a vedere come fare. Ti senti pronto? Iniziamo. Supponiamo di voler nascondere questi due file che contengono appunto, come ho detto nell'introduzione, alcune password e alcuni conti correnti in una cartella invisibile. Come facciamo a creare questa cartella? La prima cosa che dobbiamo fare è naturalmente quella di creare una cartella sul nostro desktop, esattamente come facciamo di solito. Quindi pulsante destro del mouse, andiamo su nuovo e creiamo cartella. Bene, una volta creata la nuova cartella dovremo dare a questa cartella un nome invisibile. Come si fa a dare un nome invisibile ad una cartella? basta tenere premuto sulla propria tastiera il tasto alt e mentre lo si tiene premuto digitare 0160 e poi lasciare il tasto alt. Ecco qui che adesso la nostra cartella ha un nome invisibile. Per confermarlo premiamo il tasto invio sulla nostra tastiera. Ed ecco che la cartella è stata creata e non ha nessun nome. Ma adesso come facciamo a rendere invisibile questa cartella? Quello che dobbiamo fare è cliccare con il pulsante destro, scegliere l'ultima voce proprietà, andare nella scheda personalizza e quindi scegliere cambia icona. Quando abbiamo l'elenco di tutte le icone disponibili dobbiamo scorrere verso destra fino ad arrivare a questo punto dove come vedi ci sono ben tre icone invisibili che noi possiamo applicare alla nostra cartella. Clicchiamo su quella a fianco al lucchetto, gli diamo l'ok, vedi che adesso la cartella qui in alto a sinistra proprio sullo spigolo della finestrella è visibile ma appena premiamo il tasto applica ecco fatto che la cartella è scomparsa. Bene, la cartella in realtà esiste comunque sul nostro desktop e quello che adesso possiamo fare è trascinare dentro di essa i nostri file semplicemente selezionandoli, cliccando su uno di essi e tenendo premuto e trascinandoli all'interno della cartella ammesso di riuscire a trovarla. Eccola qua, ok? Quindi quando ci compare la scritta sposta in possiamo lasciare il pulsante e i file si troveranno nella nostra cartella invisibile che è qui. Il consiglio che ti do è di spostare questa cartella in un punto facilmente reperibile del desktop in modo che quando la andrai a cercare sarà immediatamente trovabile. Un altro trucco che si può utilizzare è metterla in corrispondenza di qualche cosa che c'è sullo sfondo. Per esempio possiamo immaginare questo piccolo puntino del mio sfondo del desktop come un punto di riferimento, trascinare la cartella e metterla lì. Quindi quando andremo sul puntino vedremo che la cartella si evidenzia. Se andiamo ad aprire la cartella i nostri file saranno contenuti all'interno di essa. Tutto qui. Questo piccolo trucco dovrebbe funzionare praticamente su ogni versione di Windows, anche quelle un po' più vecchie, quindi a partire dal Windows 7 in poi sicuramente. Non ricordo di averla mai provata su Windows XP ad esempio. Però in linea di massima il concetto dovrebbe essere sempre lo stesso, sempre valido e sempre applicabile. Attenzione, su alcune macchine purtroppo, soprattutto quelle più vecchie, può verificarsi un piccolo inconveniente. Io non l'ho mai riscontrato personalmente però so che può accadere questa cosa. Cioè nel momento in cui noi andiamo ad applicare l'icona trasparente l'icona diventa invece nera. In questo caso il problema può essere risolto in maniera molto semplice aggiornando all'ultima versione i driver della scheda video. Spero che questo video ti sia stato utile e a questo punto non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!